Milano e Gardena si contendono il successo del campionato di Serie A2 con la serie di finale che prende il via dallo stadio a Gorà del capologo Lombardo, il quale offre una grande cornice di pubblico. Per l'importante evento per coach Darin nessun problema di formazione, 22 giocatori iscritti a referto mentre il dirimpettaio Kostner deve rinunciare allo squalificato Eastman, due giornate di stop per lui e agli infortunati Moroder e Demetz recuperando però capitano Fabrizio Senoner dopo il turno di squalifica. Approccio decisamente positivo da parte dei Lombardi che provano immediatamente a pungere Mazzacane verticalizza per Lopresti il quale non riesce a trasformare nell'uno contro uno. Il Milano punge anche con l'uomo in più, triangolazione Klauda Wunderer, Klauda Grosskastiger si supera e sventa la minaccia. La pressione dei padroni di casa porta i suoi frutti al 7 e 27. Disco per Lutz che non ci pensa nemmeno un secondo, conclusione respinta e tappin vincente da parte di Luca Ansoldi. L'asse meranese Lutz, Ansoldi confeziona il vantaggio da parte del Milano che spezza così l'equilibrio. Già nella prima parte del tempo iniziale, i Ladini una volta ripresisi dallo shock iniziale provano a rientrare cercando di sfruttare una situazione di superiorità a favore. Wallenberg suggerisce per Thomas Spinell che prova a sorprendere Terrazzano sul primo palo, non riuscendovi. Ancora ospiti arrembanti nella seconda metà del periodo con Kevin Senoner che parte in contropiede causando il fallo di Latin. Il numero 88 ci prova prima da solo, poi va a raccogliere la rispinta avversaria servendo sotto porta Wallenberg che impegna severamente Terrazzano. Scampati i pericoli, il Milano si ripropone in power play e fa il secondo scambio della premiata ditta Lutz Ansoldi e doppietta personale per Luca Ansoldi che insacca pure al 15.03. La doppietta dell'attaccante numero 71 lancia la formazione di casa che allunga nei confronti dei diretti avversari. Il Gherdeina continua comunque a rispondere, mascarina pesca asma che non trasforma la ghiotta opportunità. A segnare allora sono ancora i ragazzi di Darin. Capadby è in cursione di Lopresti, disco per Mazzacani il cui tiro respinto è preda di Peruzzo che non può sbagliare. Il Milano è estremamente efficace sotto porta e al 16.55 si trova già sul 3-0. Il Tris è opera di Peruzzo al terzo sigillo nei play-off. Il tempo poi si chiude con un'altra occasione sulla stecca di Shazma che si scontra però con il gambale di Terrazzano. Il disco non ne vuole sapere di entrare e allora si va alla sosta sul punteggio di 3-0. In avvio di secondo tempo i ragazzi di Kostner ci provano con una botta da fuori di Fabrizio Senone. Terrazzano si oppone in bello stile e sventa così la minaccia. Al 31.07 si registra comunque la prima realizzazione dei Ladini. Discesa sulla sinistra di Mascarin, tocco al centro per Wallenberg che allarga per Spinelli il quale appoggia in rete. L'attaccante del Renon Thomas Spinelli accorcia le distanze con un tocco preciso sotto porta che riaccende le speranze degli ospiti. Il Milano prova immediatamente a scacciare lontano gli avversari contro piedi al solitario di Lopresti e miracolo da parte di Groska Steiger che si oppone a calare il poker. Ci pensa Marcello Borghi poco dopo assistenza di Clauda per il numero 23 Meneghino che con un diagonale preciso sotto l'incrocio elude l'intervento del portiere avversario. I Lombardi tornano sul più 3 al 33.57 con il secondo gol nel corso dei playoff da parte di Marcello Borghi al termine del secondo tempo. Milano avanti per 4 a 1. E il Gardeina nella terza frazione a dover spingere ma così si aprono spazi nella difesa ladina dove prova a far male Bünderer servito da Clauda. Groska Steiger va a dire di no. Poi ancora Caletti a trovare il bene appostato migliore. Botta centrale che trova l'opposizione del portiere ospite. I ragazzi di Kostner non riescono più ad impensierire Terrazzano sino al termine. Ed allora il Milano può festeggiare il successo nella prima gara di finale.